Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. È in funzione il piano freddo. Chiamando il numero verde 800440022, si entra in contatto con la sala operativa e si hanno indicazioni per l'accoglienza. E poi, dopo lo spostamento del mercato, è stata riaperta ai cittadini piazza di Testaccio, nella quale, dopo tanti anni, è ritrovato alla sua giusta collocazione l'originaria fontana delle anfore, completamente restaurata. Come sempre, 060606 o comune.roma.it